no comunque guarda Abby si sogno della vita davvero questa roba è una fottuta droga cazzo si sembra anche male il punto è provare l'english coffee di Paul che se ne fa abbastanza schifo non neanche tanto male mi sento poderoso anche nelle vie più ricche di Londra ci sarà sempre una 500 Lidl ovunque Lidl italiano è lui il bro è italiano totalmente al caso è un posto magico adoro c'è un odore insieme a vista fuori dall'indiano davvero fantastico è tutto così british bello bello sono tutti e io impazzisco adoro è tutto così bello io sono sempre più innamorato poi con questa natura tutto questo è passato sopra ma guarda come va veloce il bro oltre che mi fa un caldo che si muore ma poi è tutto così chill cioè tipo mega chill super bello mi fa fissa un botto tutto così calmo che figata che figata estremo 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 i bro stanno sgrabando figo non lo so non mi so esprimere grefe grevissimo posto della vita che tarocchi che tarocchi che tarocchi qui siamo proprio in rialziti il gift gallery ovvio falafel sempre buono il cibo no io molto bambino dentro che ti penterei subito facciamo subito siete belli ma io ho tutt'altro obiettivo mi dispiace nope nope wow bro stai calmo la bellezza manca un po' di colore ma siamo a diagonale più o meno quanto fuori quanto bianco siamo già a chinatown di tramite si che in Italia è un'ora dopo quindi ho fame questo è il lego store più grande al mondo saliamo io voglio tutto canciapaccio caro il caro vecchio voldi la gringo ovviamente la bellezza la meraviglia è stato molto più forte di me ho preso questo e questo no questa è tipo la vita c'è allora l'obiettivo è fare la foto con l'Aston Martin quella vera vera ok molto 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 figo bello ci sta un botto cioè tipo la vita che scasso fratto molto piccante molto piccante il sole ci ha detto ciao arrivederci e grazie la bellezza io giuro è la prima volta che ne vedo 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 davvero bello davvero bello questo sarà il mio ultimo show prima di venire il mio ultimo show povero Brossa con panna Ah sì comunque Starbucks mi ha fatto regala di rovesciare Cioè mi sono rovesciato tipo tutta mezza cioccolata No, un po' di cioccolata addosso Lui mi sono tipo Finalmente un po' di cultura, National Gallery Che bello Ok, scatavo Ed è subito che io vado Spaghetti house that's not Italian food and lo hanna Are we in returning to the hotel so alle 18.44 E no, io continuo a fare apprezzamento su questa zona di posti molto là Sarei che mi piace da impazzire Mi sento, non mi sento a mio agio però figo Ho preso questo oggi E questo poi lo faccio Tanta carne Buono, molto buono Davvero bello C'è proprio un bello locale Buono, molto buono Bforo Buono 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 Grazie a tutti